Buongiorno a tutti, sono Umberto Tangelo, direttore della biblioteca Antonio Baldini. Nel quarto anniversario della morte presentiamo oggi la seconda parte dell'edità documentaria di Massimo Bordini, giornalista per circa 20 anni, direttore di Radio Radicale e conduttore di una importante e famosa rassegna stampa quotidiana. Come è noto il patrimonio librario di Massimo Bordini è stato suddiviso tra la biblioteca di storia moderna e contemporanea e la biblioteca Baldini. Il 14 aprile dell'anno scorso la collega Patrizia Rusciani, direttrice di storia moderna e contemporanea, presentò la parte di donazione per la sua biblioteca, per la biblioteca che dirige, e oggi presentiamo la parte di donazione che è stata accolta qui nella biblioteca Baldini. Si tratta di circa 3.000, circa 4.000 volumi diciamo, però sono 3.000 libri e ci sono 92 circa testate di periodici, che sono stati tutti catalogati e collocati in una sezione dedicata, tutta insieme, denominata nel registro topografico F Bordini, Fondo Bordini. e questa sezione è visibile in rete attraverso i cataloghi locali in SBN e nel sistema bibliotecario nazionale, nonché nel sito dell'internet della biblioteca Baldini, dove si può vedere nella sezione patrimonio collezioni speciali. Abbiamo alcuni libri che qui sul tavolino l'ho portati per far vedere come sono stati catalogati con la loro fascetta e c'è anche una particularità. Tutti i documenti cartacei, volantini, bigliettini, appunti che sono stati trovati, sciolti dentro i libri, sono stati a loro volta messi da parte, ognuno con la sua camicia in cui è indicato il libro a dove proviene, e questo sarà un piccolo fondo del fondo che sarà molto importante perché è importante chiaramente vedere anche quello come appuntava o cosa metteva nei libri Bordini, proprio uno spaccato di vita professionale e quotidiana. Allora, le altre persone che interverranno dopo di me parleranno chiaramente della storia di Massimo Bordini con la dovuta cognizione, le conoscenze dovute, però mi limito a dire che è stato un giornalista che ha ricoperto un ruolo molto importante in informazione del nostro Paese, come tutti sanno, e quindi una biblioteca pubblica statale come la nostra è una naturale destinazione, credo, di un patrimonio del genere, di un patrimonio documentario che può essere messo a disposizione del pubblico, nella sua organicità, nella sua interezza, e quindi serve per comprendere sia la figura umana e professionale di Massimo Bordini sia anche, consente di avere un quadro complessivo della situazione dell'attualità politica, giudiziaria e storica dell'Italia dagli anni 70 fino agli inizi del ventesimo secolo, dagli anni 70 fino ai nostri giorni in pratica però così come lui la seguiva e come lui la analizzava e quindi, insomma, dal punto di vista documentario archivista è molto importante e storico qua nella biblioteca Baldini, per chi non lo sapesse, abbiamo già un patrimonio, un fondo di un altro famoso giornalista di tutt'altro genere, di tutt'altra epoca, Paolo Monelli importante giornalista che ha percorso tutto il Novecento e quindi adesso abbiamo anche, abbiamo accolto quindi con piacere anche quello di Massimo Bordini una cosa totalmente diversa, ma un altro grande giornalista di fine Novecento e per cui abbiamo due fondi giornalistici molto importanti a questo punto e questo ci fa molto piacere per aver avuto questo ulteriore arricchimento appunto nella nostra biblioteca e quindi ringraziamo il figlio Pierpaolo e la compagna delle Preziosi per aver consentito di mettere a disposizione pubblico questo patrimonio e quindi passo la parola a Alessio Falconio, il direttore di Radio Radicale, grazie Grazie a lei direttore, grazie a voi per questa decisione che fa seguito a quella che lo scorso anno abbiamo condiviso ed è stato anche un lavoro di squadra, è stato un progetto unico e unitario che ci porta con questi due momenti, quello dello scorso anno con la biblioteca di Via Caetani e con la biblioteca Baldini quest'anno a riuscire ad aprire un varco, a bucare una bolla come si dice in gergo che a volte noi giornalisti tendiamo un po' a vivere come esclusiva invece la vostra generosità ci consente di mettere a disposizione degli utenti della biblioteca di due biblioteche così belle oggi per me non ce l'ho mai venuta una scoperta davvero bella quella della biblioteca Baldini che è un posto di conoscenza, di sapere ma anche davvero con un bel clima non austero ma sicuramente autorevole e riuscire a far parlare di Massimo Bordini il che vuol dire far conoscere a chi si approccia a Massimo Bordini tutto quel che lui per una vita ci ha spiegato, ha letto, ci ha spiegato, ci ha raccontato ha raccontato ai nostri radioascoltatori innanzitutto con chiavi che solo lui sapeva usare per aprire porte che solo lui sapeva vedere dicevamo l'altro giorno all'Università di Latina dove la Sapienza di Roma a Latina ha voluto c'erano Daniela Preziosi, c'era Pierpaolo Bordini, c'erano il professor Ceccanti hanno voluto dedicare un ricordo al nostro Massimo che Bordini aveva tra le peculiarità, tra le specialità che lo rendevano prezioso più che mai quella di unire i chiavi di lettura che a molti sfuggivano si pensi per esempio al nesso tra la politica e la giustizia lui è stato il redattore, tra virgolette, il redattore che ha raccontato all'Italia il processo Tortora di recente abbiamo avuto un problema in un procedimento in corso a Santa Maria Capovetele perché essendo un processo molto sensibile, suggerisce giustamente Daniela Preziosi gli avvocati legittimamente hanno richiesto di non farci pubblicare le registrazioni abbiamo poi per fortuna, per fortuna non nostra, per fortuna di chi ci ascolta, di tutti perché per Radio Radicale quando vince, vince per tutti, per i diritti e in questo caso il diritto alla conoscenza di tutti il Presidente Donatiello ha con una decisione che vi invito a leggere sul nostro sito pubblicata perché fa scuola non solo per questo procedimento e ancora gliene siamo grati ha spiegato quanto è importante la presenza di Radio Radicale nella trasmissione dei processi ecco, grazie a questa vicenda abbiamo voluto ricordare come proprio Bordin ci spiegava che se non fosse stato per il microfono di Radio Radicale, che lo vedeva protagonista insieme ad Antonio Cerrone nei processi Tortora, gli italiani non avrebbero capito quanto fossero false quelle ricostruzioni che raccontavano quei pentiti di mafia che accusavano ingiustamente Enzo Tortora quanto fossero inaffidabili perché l'ascolto della voce viva fa la differenza rispetto a un resoconto al quale ci si affida ciecamente ecco, Massimo Bordin è stato questo, anche questo è stato il giornalista che per esempio in un periodo a cui forse ancora siamo attaccati non riusciamo per molti versi ancora ad uscire quello che ha terremotato e ha posto fine nella cosiddetta Prima Repubblica quello di Mani Pulite lui ci spiegava ogni mattina come la politica andasse letta attraverso quello che succedeva nelle aule di giustizia e viceversa quello che succedeva nelle aule di giustizia andava letta attraverso quello che succedeva in altri poteri dello Stato che si incrociano potere legislativo, potere esecutivo e potere giudicante e anche questo è stato Massimo Bordin perché poi raccontarlo in poche parole anche per chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui per tanti anni non è facile e sarebbe comunque riduttivo però c'è uno strumento straordinario per questo che è l'archivio di Radio Radicale e che è anche l'archivio e qui c'è con il direttore dell'archivio Guido Mesiti Andrea Mauri che ha curato l'archivio Bordin che mette a disposizione di chiunque voglia conoscere di più la storia tramite Massimo Bordin o attraverso i fatti della storia che lui ha raccontato lo stesso Massimo un numero importantissimo di documenti che sono i suoi appunti di lavoro ma che sono degli appunti così ben stirati da poter rappresentare dei manuali di lavoro più che appunti di lavoro e c'è con il lavoro fatto da Andrea Mauri e con la società di Perborea che l'ho fatto a titolo del tutto volontario e con grande entusiasmo che è lo stesso entusiasmo che ritroviamo nel modo in cui voi avete accolto il fondo Bordin nella vostra biblioteca e ha reso possibile linkare il lavoro di carta di Bordin con il lavoro orale con l'essenza della radio che grazie però al nostro archivio diciamo verba volant ma anche manent e quindi mi fermo qui voglio solo ringraziarvi però davvero perché per noi poter sapere che c'è un fondo Bordin che esce dalla nostra radio ma che riconduce al lavoro che Massimo ha fatto dando vita come ha dato vita alla nostra radio negli anni in cui non solo l'ha diretta ma negli anni in cui l'ha animata anche non da direttore prima che lo diventasse e dopo che lo era stato fino all'ultimo fino a pochi giorni prima della sua morte sostanzialmente e non davvero questo ci riempie di gioia di soddisfazione perché sono semi che vengono gettati non a caso in terreni particolarmente fertili come le risposte che ci sono venute da voi testimoniano poi voi avete fatto anche non voglio svelare altro ho già parlato troppo avete fatto anche un lavoro straordinario che il nostro Andrea Mauri un po' c'è ha tentato di sottrarvi io gli ho detto controllatelo altrimenti esce con le borse ma non voglio dire altro grazie grazie davvero il più volte evocato Andrea Mauri è invitato a parlare adesso sì ma comunque è tutto materiale a disposizione del pubblico quindi tranquilli vorrei ringraziare la biblioteca il direttore Umberto D'Angelo dottoressa Luzzi con la quale ci siamo sentiti parecchie volte in questo periodo poi chiaramente il direttore Alessio Falconio Paolo Chiarelli Guido che hanno creduto molto in questo progetto ora il progetto dell'archivio a quattro anni dalla scomparsa di Massimo è praticamente terminato questo lo possiamo dire tranquillamente perché da quasi un anno l'archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante ed è disponibile la consultazione online grazie in particolare alla già citata Iperborea la società che ha messo a disposizione gratuitamente questo lo dobbiamo dire proprio il software Ariane for Work per rendere utilizzabile online l'inventario cartaceo con le schede dell'unità archivistica associate a ben 32.000 immagini di questo archivio e voi sapete anche quanto siano anche costosi questi software insomma soprattutto quando sono gestibili vanno gestiti online e questo è stato veramente un regalo prezioso veramente l'archivio si può consultare navigando nel sito Radio Radicale direttamente nell'home page bordin.archivio.radioradicale.it lo dico per gli ascoltatori della radio che se vanno nel sito c'è un banner proprio nell'home page ed è questo comunque l'indirizzo i dati quantitativi li ricordo brevemente sono le carte vanno da 75 al 2019 sviluppa 11 metri lineari all'interno di 86 contenitori tra faldoni scatole e cartelle che contengono 835 unità archivistiche che tra fascicoli e tacquini 131 gruppi di opere a stampa e l'archivio è diviso in 12 serie archivistiche che spaziano dall'attività personale agli appunti per le rubriche che Massimo conduceva a radio radicale quindi per essere un archivio di personalità è un archivio corposo insomma abbastanza grande poi appunto ci sono le scoperte dell'ultimo minuto come appunto questi appunti che però sono aggregati alla biblioteca noi non ce li prendiamo insomma e quindi diciamo non era solo un semplice cronista Bordini ma un lettore attento dei giornali per la fortunatissima e citatissima la segna stampa e regime ma molto di più tutto il suo archivio rispecchia questo di più e quindi è uno scrigno prezioso questo archivio per testimonianze su oltre 40 anni di attività politica giudiziaria abbiamo già citato tante volte i tacquini ma anche gli appunti eccetera e io mi vorrei soffermare 10 minuti se avete pazienza su un aspetto particolare che mi ha colpito di questo archivio e cioè il rapporto tra Bordini e Sciascia è una cosa che diciamo Sciascia è come dire sempre presente nell'archivio Bordini in modo incredibile e vi fa capolino su tanti temi centrali per la politica italiana dall'unità nazionale al rapporto tra mafia e politica all'affermoro al rapporto tra magistratura e giustizia e su queste carte di Bordini in cui si richiama Sciascia appunto vorrei soffermarmi allora va detto una cosa in premessa che una parte dei pezzi scritti da Bordini sono conservati in forma dattiloscritta spesso senza indicazione della testata a cui erano destinati e qualche volta della data questo crea dei problemi diciamo di attribuzione anche di fare titoli critici però questo farà parte poi di un lavoro magari di qualche degli studiosi se hanno voglia di lavorarci le testate per le quali in archivio invece sono presenti i ritagli vanno ricordati il riformista il suo dorso mensile l'interprete internazionale e polis globalist quotidiano nazionale panorama le nuove ragioni del socialismo che c'è una serie completa di un paio di annate e soprattutto il foglio con la sua celebre rubrica a bordo in line in questa annotazione di lavoro che dicevo prima appunto i dati lo scritti quelli senza data e senza titolo Leonardo Sciascia è sempre presente a partire dalle riproduzioni di frasi dei suoi libri o da elenche delle sue opere sono appunti minuti precisi che servono per una memorizzazione di fatti avvenimenti e dati utili per gli articoli in cui l'opera dello scrittore siciliano è chiamato per confermare concetti e argomenti condivisi lo stretto legame tra Bordino e Sciascia è ripilogato da Guido Vitiello in una lunga nota conclusiva del pamflet Una passione unica sette anni di borderline dedicata al grande giornalista a pochi giorni dalla sua scomparsa è venuta a Roma appunto il 17 aprile 2019 egli è diventato scrive Vitiello a proposito di Bordino il riferimento indispensabile per il mondo della giustizia di cui ha saputo cogliere tutte le sfumature e le declinazioni individuali e procedurali senza timore di essere accomunato alla cultura paramafiosa del gruppo che oggi gli ha reso l'onore delle armi accusa che era stata già rivolta a Leonardo Sciascia il cumulo di quel coraggioso itinerario è savuto quando ha definito un colossale imbroglio il processo di Palermo sulla trattativa tra Stato e mafia analizzato in ogni risvolto nel libro Complotto del 2014 nei documenti dei documenti di Bordino sono conservate anche alcune pubblicazioni perché abbiamo questo materiale tipicamente archivistico poi appunto come dicevo prima anche del materiale a stampa che è aggregato in questo caso all'archivio cioè il novecento visto da Sciascia supplemento dello Stato a cura di Marcello Stagliano del 1988 l'edizione spagnola della memoria de Sciascia di Federico Campbell le schelle di eventi registrati da Radaricali con Leonardo Sciascia la famosa scheda dell'archivio rassegna e stampa su mafia e antimafia un curioso fascicolo questo è veramente incredibile dal titolo Sciascia che contiene manoscritto senza indicazione di data e riprodotto su carta termica e quindi abbiamo dovuto riprodurre perché la carta termica come sapete dopo un po' si distrugge molto probabilmente ricopiato da Bordini del copione di A Ciascuno il suo cioè è scritto a mano un copione teatrale è scritto a mano dell'opera teatrale in questo caso A Ciascuno il suo del comediografo Ghigo de Chiara quest'ultimo tanto per richiamarlo aveva curato la riduzione teatrale anche del Consiglio d'Egitto e di Candido messo in scena presso il teatro stabile di Catania Bordini in un tacquino trascrive stralci della lunga intervista a Ciascuno a cura di Hector Bianciotti e Jean-Paul e Toven per le Nouvelle Observateur del giugno 78 trascrive c'è questa abitudine proprio di prendere l'appunto con la trascrizione perché è una cosa che aiuta anche a livello diciamo mnemonico ma poi per elaborare e lo fa in un modo molto puntuale e chirurgico diremmo a centro di questa intervista a Ciascuno c'è la dura critica alla politica del partito comunista italiano a partire dalla scelta del compromesso storico e dei governi di unità nazionale secondo Ciascia questa scelta prefigura la fine del PC come aveva intuito già Aldo Moro che l'aveva favorita perché il partito avrebbe perso ogni parvenza di opposizione alternativa alla democrazia cristiana la conversazione è interessante perché si affrontano temi collegati come il rapporto tra l'intellettuale e la sinistra la cultura comunista e il terrorismo delle Brigate Rosse non mancano riferimenti personali di Ciascia e le sue relazioni con i comunisti siciliani in particolare la sua esperienza di consigliere comunale a Palermo eletto nell'istra del PC lo scrittore siciliano è rimasto in consiglio comunale 18 mesi per poi dimettersi profondamente deluso della politica di opposizione in cui militava che non intendeva creare un'alternativa al governo cittadino e democristiano in nome dell'accordo nazionale parliamo del 1975 Bordini riporta nei taccuini richiamati Sciasciani a Candido e a Pangloss al secolo dei Lumi come punti di riferimento di un'ideologia illuminista sempre attuale gli strumenti per superare il terrorismo e il rapporto tra Sciascia e il PC sono ripresi in un efficace articolo di Bordini di cui il suo archivio conserva tre copie dati lo scritte e il manoscritto ma senza indicazione testata e di data questa è un'altra cosa appunto come dicevo prima che può creare dei problemi ma insomma è interessante questo articolo è molto lungo io indegnamente provo a fare una sintesi questo articolo di Bordini si chiude con la citazione di un altro passaggio del tormentato rapporto di Sciascia con il partito comunista italiano il riferimento a una violenta polemica con Giorgio Amendola sulla lotta al terrorismo la polemica con Amendola prelude altri due contrasti con gli intellettuali comunisti Renato Guttuso e Lucio Lombardo Radice in occasione della candidatura di Sciascia nell'Ista Radicale nel 79 alla Camera dei Diputati e al Parlamento Europeo e ai rapporti tra APC e Cecoslovacchia sull'affair Moro e lì c'è stata tutta una questione molto grossa perché Sciascia poi faceva parte della commissione antimafia eh sì della commissione Moro chiedo scusa e insomma venne fuori a seguito di una dichiarazione di Berlinguer molto strana questa storia dei rapporti tra PC e Cecoslovacchia e su questo si innesta una polemica che poi porterà anche a una rottura dei rapporti tra Sciascia e lo stesso Guttuso e su questo Bordin insomma ci lo sottolinea veniva ripreso il tema caro a Sciascia sull'organizzazione del PC già delineato in un'intervista all'Universe Observatorio come partito chiesa al di fuori del quale non vi era salvezza cioè la polemica era molto forte no? la rottura definitiva con Guttuso si ebbe nel 1980 appunto come dicevo prima l'intellettuale siciliano fu al centro di una lunga polemica per il suo ruolo di membro della commissione parlamentare sulla Pimento l'uccisione Aldo Moro e della sua scorta allora la polemica questa è un'altra polemica enorme che compare nelle carte bordiniane la polemica suscitata dalla pubblicazione sul Corriere della Sera del 10 gennaio 87 dell'articolo famoso articolo professionista dell'antimafia consente a Bordin di affrontare il tema della giustizia e Bordin cita le polemiche seguite dalla pubblicazione del contesto di todo modo e la sua presa di posizione per l'innocenza di Enzo Torto l'ho richiamato prima con la critica dei PM napolitani della magistratura associata che ha difeso il loro operato questo consente a Bordin di scrivere che nell'intervento di Sciascia sui professionisti dell'antimafia non c'era stato alcun cambiamento di giudizio sulla lotta a mafia piuttosto una sasperata continuità con le analisi espresse per tanti anni invece sulla natura e sul suo rapporto con la politica Sciascia cambiò opinione dice Bordin l'occasione ricorda il giornalista fu dato allo scrittore siciliano dall'omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa avvenuto a Palermo il 3 settembre 1982 in quell'occasione in Sciascia nota Bordin c'è un cambiamento di valutazione nel senso che i politici collusi non vengono certo riabilitati né la pericolosità della mafia sminuita ma segnala che la parte sana della politica e della società non registra un cambiamento in atto nella parte della politica coinvolta direttamente con la mafia la quale stava cambiando modalità di azione criminale nel corso degli anni queste valutazioni portarono a dei scontri a polemiche durissime fino a pochi anni fa insomma si è ripreso questo 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 articolo professionisti dell'antimafia in tantissime occasioni però il mutamento di Cosa Nostra e della sua relazione con la politica è esaminato di nuovo in un dato scritto al solito senza titolo però è tutto disponibile online questo senza titolo in cui Bordin riprese e approfondì una polemica lì Sciascia con Nando della Chiesa il figlio del generale Calaberto un'importante citazione dedicata a Sciascia Bordin la fa in un articolo conservato nel suo archivio pubblicato dal quotidiano Gli Altri diretto allora da Piero Sanzonetti in occasione del ventennale dell'uccisione di Giovanni Falcone il magistrato che cito Bordin viene ucciso quando avendo contro praticamente tutta la magistratura associata cerca di concretizzare una struttura nazionale antimafia profondamente innovativa le indagini patrimoniali come grimaldello per colpire la mafia nel suo punto vitale quello che aveva scritto Leonardo Sciascia nel giorno della civetta vent'anni prima i conti bancari da analizzare quanto e più delle perizie balistiche una rivoluzione copernicana da portare avanti però senza pericolose scorciatoie appunto questo è l'articolo degli altri il richiamo all'attività di Falcone al ministero di grazia e giustizia viene giudicato da Bordin come uno strumento che avrebbe consentito di ricostruire percorsi dei capitali mafiosi che hanno inquinato l'economia nazionale il giornalista ricorda però che i veleni all'interno della magistratura associata e del CSM fecero in modo di fermare la sua nomina alla procura nazionale antimafia e i mafiosi cominciarono ad ammassare esplosivi sotto l'autostrada annota Bordin in conclusione del suo articolo vado verso la conclusione era inevitabile leggere perché sono tante le citazioni quindi fu lo stesso Falcone a citare il giorno della civetta come una verità importante durante un'intervista con Marcel Padovani che nel corso della sua carriera giornalistica conobbe e lavorò con lui Bordin annota in un suo taccuino questa volta quindi non abbiamo più il dattero scritto ma abbiamo il taccuino a margine di appunte a un convegno dell'associazione degli amici di Leonardo Sciascia nel novembre 2011 che in quel romanzo Il giorno della civetta Sciascia sostiene che non è vero che la mafia nasce da un vuoto dello Stato piuttosto nasce dentro dello Stato il giudicare il controverso rapporto tra magistrati e inquisiti è al centro di un altro lungo dattero scritto Bordiniano senza titolo e senza data come al solito in cui le citazioni sciasciane sono numerose in questo brano Bordin cita molti esempi in cui il rapporto tra magistratura e inquisiti ha subito delle forti torzioni e forzature sia rispetto ai principi costituzionali sia rispetto all'articolo 347 del codice di procedura penale che vale la pena riportare nel primo capoverso recita scusate se lo leggo sono un po' pedante ma è utile per inquadrare la questione acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria senza ritardo queste sono le parole che colpiscono Bordin riferisce al pubblico ministero per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione chiuso la citazione dell'articolo le denunce di omissione della polizia giudiziaria a proposito della previsione senza ritardo e atteggiamenti da super poliziotti dei pubblici ministeri sono le due facce della medaglia analizzate da Bordin in questo lungo dattilo scritto dall'arresto di Renato Curcio capo dei brigati rosse alla vicenda di Mario Mori alle indagini sull'attentato a Paolo Borsellino a buon gioco quindi Bordin a citare una serie di libri di Sciascia da una storia semplice a porta aperte al contesto scrive Bordin Sciascia non amava i magistrati solo in un libro porta aperte è un magistrato il personaggio positivo ma lo è proprio perché in conflitto con i suoi colleghi e il suo capo pronti a piegarsi al regime che vuole esemplare e condanna a morte per il resto nei suoi libri i magistrati sono conclamati imbecilli come quello del suo ultimo romanzo una storia semplice o algi di inquisitori feroci e sacerdotali come quelli che fa monologare nel contesto in cui spiegano che il giudice che emette la sentenza è come il prete all'elevazione dell'oste e si compie la transustanziazione quale che sia la sentenza cioè di un'erenia incredibile anche se in fin dei conti il criterio della decimazione sarebbe quello più semplice e appropriato questo dicono al protagonista un commissario che cerca la verità prima di essere uccisi da una loro vittima vendicativa Sciascia amava gli investigatori più dei giudici e infatti alla fine di quel libro il commissario trova la verità ma viene ucciso dal potere per impedire che possa essere conosciuta questa è una citazione bordiniana tra gli altri esempi Bordin è veramente chiuro ricorda che nel giorno della civetta la magistratura nemmeno compare e la partita si gioca tutta tra carabiniere e mafiosi sono gli anni in cui il ruolo del pubblico ministero era quello del dominus della polizia giudiziaria in tutte le fasi dell'indagine chiosa Bordin ciò non impedisce al capitano Bellodi di costruire un verbale falso per costringere un mafioso di mezza tacca a incastrare i suoi capi Sciascia era un cultore dello stato di diritto ma gli investigatori nel suo romanzo è sempre concesso molto con ironia che deriva dal paradosso delle cose Bordin conclude il suo pezzo ma conferma la sua attenzione alla procedura al rispetto delle regole e alle garanzie per chi incappa nella giustizia ora è chiaro che chi ha voglia di capire la storia giudiziaria e politica non solo italiana negli anni tra il 75 e il primo ventennio del ventunesimo secolo senza incorrere inconsuete ovvietà ma anche la storia di radio radicale e della comunicazione questo archivio costituisce un punto di riferimento importante grazie 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 queste considerazioni ci convincono ancora di più dell'utilità di avere questo materiale a disposizione per cui tra l'altro scusate una breve parentesi perché prima mi sono scordato dobbiamo ringraziare la vice direttrice da Baldini Antonella Ruzziconti che ha fatto un lavoro prezioso ha fatto quasi tutto lei praticamente con alcuni collaboratori ma la guida è stata Antonella Ruzziconti la vice direttrice che ha inventato anche la scatola preziosa che sta lì beh certo il lavoro collettivo ai catalogatori che hanno catalogato in fondo diciamo abbiamo collaborato con tutti di verità adesso do la parola a Guido Mesiti che è responsabile dell'archivio dei dati radicali ecco buongiorno anch'io vi ringrazio dell'invito e sarò più breve perché davanti a tante persone che possono dare contributi così autorevoli io in qualche modo vi farò fare un un veloce volo all'interno dell'archivio di Radio Radicale nel senso che la voce le parole il lavoro ma anche il lessico di Massimo Bordin hanno caratterizzato Radio Radicale hanno caratterizzato in qualche modo anche la nostra vita quotidiana ma si ritrovano nell'archivio cioè l'archivio disegna un percorso ecco della sua attività attività politica professionale ma fino anche umana ecco e quindi ci sono alcuni dati che vorrei diciamo condividere con voi il primo servizio che noi troviamo in archivio ma che poi vi dirò vi posso dire che sicuramente non è il primo diciamo il primo che è stato conservato come potete immaginare i mezzi scarsi di Radio Radicale nei primi anni della radio non consentivano la conservazione di tutte le registrazioni però a un certo punto nasce anche all'interno della radio soprattutto quando diventa rete nazionale un servizio di archivio quindi il primo servizio in cui c'è Massimo Bordin è del 26 aprile del 79 e parla del rapporto fra il calcio e la violenza ecco quindi un argomento anche un po' diciamo insolito per quello che poi si sarà il percorso di Massimo e l'ultimo documento che noi abbiamo è del 2 aprile del 2019 ed è se mi permettete anche un documento un po' tragico perché è l'ultima rassegna stampa che lui fa in cui molti di noi improvvisamente scoprono dal tono della voce che c'è qualcosa che non va ecco 40 anni quindi queste sono due date che disegnano 40 anni ma che probabilmente nei primi anni sono anche un po' di più e quindi noi assistiamo se andiamo a vedere in archivio come redattore ci sono più di 8000 interviste servizi contributi indipendentemente dal suo ruolo di direttore e ci sono 1100 interventi non come giornalista o direttore o redattore ma interventi come anche politico come attivista come attivista per i diritti umani come intellettuale ecco e poi diventa direttore nel 91 anzi formalmente nel 92 giornalista professionista nel febbraio del 92 direttore nel maggio del 92 ma già nella metà del 91 nell'estate del 91 sicuramente lui fa funzioni di direttore perché abbiamo un indizio in un editoriale dell'autunno in cui ringrazia Oscar Luigi Scalfaro per una donazione di 5 milioni di lira a Radio Radicale così a conclusione di un percorso difficile della radio come quello del 1990 in cui la radio ha visto la sua vita messa in discussione e come poteva fare Bordin un editoriale se non era già direttore ecco questo diciamo è un indizio certezze non ne ho però a voi soprattutto ad Andrea che è l'esperto e diciamo l'attività di Bordin poi ecco partiamo da questo servizio su calcio e violenza e poi si dedica per alcuni anni a diciamo a varie questioni ma che possono essere diciamo raccolte intorno a problemi di giustizia di inchiesta e di rapporto fra politica e giustizia quindi iniziamo col processo 7 aprile il 7 aprile è il primo processo lui stesso dirà nell'ultimo nell'intervento che ha fatto nell'ottavo congresso italiano del partito radicale a Roma all'hotel a via nazionale e dirà che il 7 aprile è stato il primo processo che la radio ha seguito in maniera integrale e si vede che lui lo ha seguito e è stato in maniera coinvolgente insomma ecco e poi la commissione di inchiesta sulla P2 dove lui ha anche collaborato con Massimo Teodori ecco e poi il caso Tortola di cui si è già parlato e cui lui stesso parla nello stesso intervento all'ottavo congresso italiano del partito radicale e che il direttore ci ha citato appunto proprio oggi poi inizia l'archivio è curioso no? perché poi si trovano tracce di cose anche che magari sono state pensate oppure sono nate e poi sono diventate cose importanti per cui inizia nell'83 una settimana giudiziaria fatta insieme a Bruno Ruggero ecco per tutto l'83 c'è questa settimana giudiziaria nel 94 diventa una rubrica cronaca giudiziaria e diventa diciamo più corposa dal punto di vista della lunghezza per diventare nell'85 lo speciale giustizia che diventa proprio un classico dell'informazione di Radio Radicale e l'attività di Massimo Bordin con lo speciale giustizia è impressionante perché praticamente ogni sera o quasi ogni sera c'è lo speciale giustizia di Massimo e in certi momenti vedremo che si si somma alla conversazione settimanale con Pannella a volte conversazione settimanale con Pannella di domenica e lunedì con Emma Bonino per cui diciamo comincia a essere noi l'abbiamo visto insomma arrivare la mattina presto andare via forse per l'ora di pranzo ma poi ritornare e lavorare il pomeriggio per lo speciale giustizia e poi fare lo speciale e così via poi ci sono altre piccole rubriche che però hanno un certo peso nel 98 fa una serie di puntate insieme a Enrico Ruffi Nightline la cronaca diciamo una critica della informazione televisiva del momento del tempo e poi nello speciale giustizia una rubrica molto così interessante anche molto godibile ecco era ascoltarli era uno spettacolo nel 99 mafia politica informazione con l'avvocato Michele Costa per cui che era il figlio del giudice Gaetano Costa e per parecchio tempo questa rubrica è andata avanti e insomma la libertà dei due era fenomenale perché insomma si potevano ascoltare anche giudizi critici mai banali insomma voglio dire aveva per me secondo me un valore notevole poi c'è anche un diario napoletano nel 2008 con Aldo Doloris Rossi ecco di una 4-5 puntate e poi nel 2000 appunto è iniziata la conversazione settimanale con Pannella che inizia all'inizio un po' per caso come un'intervista sulle cose della settimana e poi invece si struttura in maniera tant'è vero che noi in archivio siamo dovuti andare a correggere alcuni titoli perché a un certo punto dice no ma noi l'abbiamo iniziata nell'estate autunno del del 2000 e quindi siamo andati a vedere effettivamente era così e poi altre cose perché si pensa io mi ricordo che a un certo punto alla fine degli anni 90 venne un ospite un giornalista diciamo illustre e per fare un complimento a Radio Radicale disse no perché secondo me è diretta da un ottimo giornalista di cronaca giudiziaria Massimo Bordini ecco io oggi riterrei questo allora forse voleva essere sicuramente nell'intenzione dell'ospite era un complimento per cui non mi permetto di giudicarlo ma oggi sta stretta questa cosa sta molto stretta perché iniziano all'inizio del 2000 inizia tutto un progetto sul Medio Oriente per cui nel 2004 c'è Medio Orientale con Fiammanire Stein poi conversazione sul Medio Oriente poi quadrante afro Medio Orientale dove si parla Sabrina Gasparrini parla anche del quadrante diciamo del corno d'Africa dell'Africa e così via poi con Emma Bonino e sempre con Gasparrini il Medio Oriente visto dal Cairo poi c'è l'impegno di Emma Bonino come ministro e quindi c'è il Medio Oriente visto dalla Farnesina insomma si segue questa cosa due sguardi sul Medio Oriente dove la trasmissione si arricchisce delle due voci di Fiammanire Stein e di Sabrina Gasparrini una per la parte fra virgolette araba e l'altra per la parte israeliana quindi questo confronto in maniera così metterà a confronto due voci dava uno spaccato eccezionale di quella che era la realtà anche sociale perché poi non era insomma erano contributi non solo diciamo politici o geopolitici contributi sulla società araba e sulla società israeliana e poi America sociale con Giovanna Paglietta e da ultimo Africa oggi su Crisahid quindi come vedete il ruolo di giornalista giudiziario verissimo importantissimo ma oggi possiamo dirlo stava stretto stava veramente stretto e dal mio punto di vista personale io ho visto un uomo che professionalmente ha fatto una crescita eccezionale perché anche il ruolo di direttore attraverso difficoltà che Radio Radicale aveva è stato veramente un ruolo complicato in momenti drammatici momenti anche interni difficili fra all'interno della redazione con pulsioni che venivano dall'esterno da presidenti della camera che volevano interferire insomma voglio dire è stato un ruolo di garanzia di garanzia tale che appunto nell'intervento che ha fatto all'ottavo congresso italiano del partito radicale malgrado fosse a pochi giorni poi dalla sua scomparsa ha fatto una difesa della radio come come se fosse una cosa sua insomma ecco come se fosse la sua vita e probabilmente possiamo dire che parte almeno della sua vita sicuramente lo è stato e poi la rassegna stampa che non ve lo devo dire ovviamente è stata per tanti anni possiamo sicuramente più di 5.000 ecco sono dal 2006 ce l'abbiamo isolata come le sue come quelle degli altri che si sono alternati ma sicuramente ce ne abbiamo molte anche prima nei nastri integrali perché nel momento in cui la radio diciamo ha iniziato a registrare in digitale è stato più facile isolare diciamo le registrazioni in maniera anche perché era la trasmissione di punta per quanto riguardava gli ascolti ecco io concludo qui per me è stato un onore e un piacere avere Bordin come direttore e credo che tutti abbiamo imparato molto ecco una cosa voglio dire c'era spesso c'era un siparietto fra me e lui per l'archivio perché voi immaginate Bordin era un grosso consumatore dell'archivio se voi Andrea può raccontare come ha trovato la sua scrivania c'è una montagna di cassette una montagna di cassette allora io ogni tanto quando lui andava a pranzo facevo andavo nella stanza di Massimo e facevo con uno scatolone facevo una sorta di raccolta di repulisti di salvataggio perché dico adesso qui non si sa che fine fanno queste cassette in realtà non era così poi lui aveva molta cura e le utilizzava molto una volta ovviamente è tornato prima e mi ha beccato che facevo questo e lì ho avuto un attimo qualche secondo di timore nel senso per non dire di paura ecco perché dico adesso me ne dice quattro e invece mi ha detto ah bravo Guido bravo bravo vai vai per cui insomma è andato così e mi sono salvato comunque è stato un piacere grazie a tutti quanti grazie invito Patrizia Rusciani direttrice della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea a intervenire grazie ecco buongiorno a tutti anche io devo fare i dovuti ringraziamenti al collega Umberto D'Angelo per aver organizzato questa giornata e per avermi invitata allora di Bordino è già stato detto molto da voi di Radio Radicale e non voglio dire altro insomma di questa personalità così importante del giornalismo italiano no? proprio della storia del giornalismo italiano e quello che io voglio dire invece è che penso che abbiamo fatto un buon lavoro in tre Radio Radicale Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea e Biblioteca Baldini noi siamo due biblioteche che fanno capo al Ministero della Cultura quindi siamo delle biblioteche di conservazione quello che entra nelle nostre biblioteche verrà conservato per le generazioni future e quindi con questo diciamo così progetto questa operazione abbiamo diciamo così messo in salvo tra virgolette è reso è creato appunto un fondo anzi due fondi ma che sono poi un unico fondo che verranno resi saranno resi disponibili allo studio la consultazione delle generazioni future questo insieme poi all'archivio di Radio Radicale per cui rimarrà la memoria di questa di questa personalità di Bourdine e la sua eredità possiamo dire cartacea no? perché lui ha lasciato un'eredità intellettuale ma ha lasciato anche un'eredità cartacea e anche sonora ovviamente no? perché poi allora io dirigo una biblioteca che è una biblioteca specializzata proprio in storia moderna e contemporanea gli storici lavorano sulle fonti il nostro mestiere è conservare queste fonti renderle disponibili e le fonti possono essere di vario tipo fonti a stampa fonti manoscritte e fonti anche sonore audiovisive allora con questo progetto abbiamo penso creato un bellissimo fondo e che rimarrà quindi a disposizione di tutti tra l'altro anche se le due biblioteche hanno diviso il fondo poi vi dirò perché è comunque riunito in SBN che è il nostro catalogo nazionale che devo dire è un prodotto eccezionale insomma delle nostre diciamo così del corpus delle biblioteche italiane che è il sistema SBN appunto perché è un catalogo nazionale nel quale confluiscono i dati di tutte le biblioteche per cui il fondo Bordin della Baldini e il fondo Bordin di storia moderna possono comunque essere consultati anche unitariamente perché entrambi sono stati catalogati con una specifica appunto definizione di fondo Bordin allora faccio una breve cronistoria perché qui ancora non è stata fatta ma la voglio dire insomma nel giro di un anno e mezzo abbiamo iniziato e compiuto questa operazione io ho cominciato a ricevere telefonate insistenti di Andrea Maori nell'estate del 2021 e che ci chiedeva appunto se volevamo potevamo ricevere in dono questa biblioteca che generosamente Radio Radicale ma il figlio Pierpaolo Bordin che qui e che saluto ha voluto donare appunto allo Stato e allora all'inizio insomma avevamo un po' di problemi ma non perché non avessimo compreso subito l'importanza di questo fondo perché soffriamo ormai le biblioteche hanno insomma stanno vivendo dei momenti difficili sia per carenza fortissima di personale ma anche nel nostro caso per carenza di spazi noi siamo in un palazzo storico appunto in via Caetani che tutti ci chiamate la Caetani ma in realtà siamo la biblioteca di storia moderna e contemporanea e il palazzo diciamo è saturo di spazi quindi all'inizio insomma tentennavamo poi abbiamo fatto però abbiamo capito l'importanza di questo di questo in questa richiesta e abbiamo fatto dei sopralluoghi a Radio Radicale dove c'erano questi scatoloni dei libri di Bordin che occupavano vari piani della radio e a quel punto abbiamo i libri erano circa 6.000 e noi abbiamo detto ok avremmo potuto prendere questo fondo però non avremmo potuto prendere i doppi per i motivi che vi ho detto di spazio eccetera e probabilmente abbiamo detto già dall'inizio molti dei libri di Bordin visti i temi di cui si occupava erano libri che probabilmente la biblioteca aveva già acquistato e acquisito allora ci siamo preoccupati però appunto per non smembrare questo fondo di trovargli un'altra collocazione allora quindi grazie alla disponibilità prima della direttrice della dottoressa Carla Bamondi che era in quel momento direttrice e poi del dottor D'Angelo che poco dopo è subentrato abbiamo fatto questo accordo per cui i libri sono stati portati tutti da noi nell'autunno e abbiamo aperto gli scatoloni il personale della biblioteca controllato libro per documento per documento e ciò quelli che erano doppi poi sono stati portati qui alla Baldini quindi insomma devo dire che in un anno e mezzo abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro penso che anche voi anche insomma gli eredi anche la compagna possano essere soddisfatti perché questo fondo adesso è conservato insieme a ciò che è conservato negli archivi di Radio Radicale sia la documentazione scritta sia le registrazioni chiunque voglia studiare sia la figura di Bordin come importante protagonista giornalista importante protagonista anche della vita politica culturale del nostro paese potrà o anche studiare la storia contemporanea perché tutti i temi di cui lui si occupava sono i temi e poi della storia del nostro paese insomma che lui ha percorso nei modi che sono stati prima illustrati quindi insomma penso che questo sia stato proprio un bel lavoro voglio solo ancora dire che no intanto i complimenti a Radio Radicale perché tutto è partito da loro perché Radio Radicale ha da subito da sempre avuto una grande sensibilità per la conservazione delle fonti ecco il vostro archivio che infatti è stato notificato già da molti anni dalla sovrintendenza archivistica quindi dallo Stato e anche ora l'archivio Bordin è stato notificato e quindi anche questo è una forma poi di protezione che fa sì che non potrà più essere smembrato né diviso e comunque rimarrà un corpus unitario quindi su questo poi voglio anche dire che insomma la raccolta di Bordin ha testimoni dei suoi libri ora parlo dei libri e testimonia non soltanto appunto i suoi temi di interesse che insomma sono già stati illustrati ma anche il suo metodo di lavoro cioè era un metodo di un giornalista veramente attento che studiava che andava a fondo di tutto ciò di cui parlava e tant'è che in questa sua raccolta poi ci sono non solo appunto le pubblicazioni diciamo così dei grandi editori eccetera ma c'è moltissimo anche giornali piccole pubblicazioni anche di editori minori o addirittura per esempio i giornali degli anni 70 dei movimenti insomma quindi pubblicazioni non facilmente reperibili sul mercato e quindi il fatto di averle poi tutte a disposizione è una cosa importante un'altra cosa che voglio dirvi è che questa etenogeneità delle fonti va anche insieme a una testimonianza poi di della importante rete di relazioni che aveva Bordini perché molti di questi libri di questi documenti hanno a parte le note sue manoscritte che quindi sono anche quelle di grande interesse per chi li studierà ma anche le dediche che gli venivano fatte da chi gli donava questi libri o comunque da chi glieli forniva e che non sempre erano poi della sua parte diciamo così di pensiero anzi tutt'altro lui aveva strette relazioni per esempio in biblioteca è venuto il ministro Brunetta che era molto legato a Bordini e certo non era insomma dello stessa area diciamo così ecco quindi insomma io voglio dire che concludo con questo e dico che insomma a volte ecco io credo sempre molto nelle collaborazioni da soli non si va mai da nessuna parte e soprattutto in ambito culturale molto importante e questo quindi è un buon risultato ecco grazie Patrizia adesso conclude Mirella Serri anche lei giornalista e donna di grande cultura grazie grazie intanto grazie per avermi chiamato in questa in questo contesto in cui si parla di Radio Radicale e soprattutto si parla di Massimo Bordini e si parla anche di conservazione di documenti che come dire a me stanno particolarmente a cuore inizio con una citazione di Bordini no e no io non faccio campagne sono libero di dire quello che penso così commenta il conduttore e il direttore anche della rassegna stampa più diciamo ascoltata nel mondo politico dove ho preso questa citazione ve lo dico subito non lo so lo dico scherzosamente perché per me è senza data quindi quando si parla di io non faccio campagne in realtà gli avranno detto schierati da una parte e lui ha detto io sono libero però mi interessa al di là dello scherzo perché voi avete sentito fino adesso quanto materiale c'è in questo archivio ce n'è tantissimo io mi ci sono come dire un po' inoltrata però devo ancora tirare ci vuole tempo devo ancora tirare le fila vedo che ci sono i curatori che mi annuiscono quindi non mi sento io particolarmente però insomma ho trovato parecchie citazioni che mi interessavano però bisogna lavorarci e quindi spero che sia solo un primo passo per poi tante altre cose che Massimo Bordin si merita perché se le merita se le merita perché era un giornalista come è stato detto bravissimo ma secondo me non era solo un giornalista l'ha detto bene il direttore Alessio Falcogno lui leggeva i giornali i libri eccetera e utilizzava delle chiavi che solo lui sapeva usare cioè cosa vuol dire usare delle chiavi certo tutti i giornalisti televisione eccetera che noi ascoltiamo ci pongono delle cose ma Massimo Bordin e questo è anche un merito di Radio Radicale che gli lasciava quella libertà di cui io ho parlato adesso e di cui lui aveva estremo bisogno forse non avrebbe potuto lavorare in un altro contesto lui ha interpretato vent'anni adesso facciamo i conti di storia italiana in una maniera io lo dico da ascoltatrice che era assolutamente unica ed eccezionale quindi quando mi auguro che ci sia un lavoro d'archivio non è solo per tirare fuori i documenti ma per tirare fuori quelli che erano i suoi commenti e le sue interpretazioni perché a me le sue interpretazioni da uomo libero a me ma non credo a tutti insomma a tutti credo mi illuminavano particolarmente dico una cosa che forse può sembrare una banalità però tutto sommato non lo è per esempio è stato celebrato giustamente dagli interventi che mi hanno preceduto come giornalista diciamo così che è entrato per primo nelle aule di giustizia posso dire che se noi usiamo la parola garantismo oggi cioè lo usiamo spesso si usa io sono garantista io credo che sia merito di Massimo Bordin perché ha trasformato quello che era diciamo una parola un po' chiamiamola un po' circoscritta a un certo contesto in una parola in cui adesso la usiamo tutti felicemente però lui ci ha fatto capire esattamente il senso di quello che voleva dire anticipo una citazione che volevo usare diciamo per ultimo alla fine del mio discorso ma mi viene bene in questo momento lui a un certo punto dice basta con lo dice nel suo libretto Bordin Line basta basta con le banalità dice ecco la banalità delle parole bisogna riflettere sulla qualità delle parole e lui lo faceva sempre per questo dico tiriamo fuori dall'archivio un certo stile vago e al tempo stesso magniloquente che caratterizzava i grandi oratori del pc si è via via immiserito col tempo ma senza perdersi del tutto lasciando prestrada solo l'affascinante anche se un po' barocca e recitata complessità e invece adesso c'è la vaghezza e la retorica e questo lui faceva sempre poi lo possiamo applicare a tutti i vari commentatori che noi conosciamo e dice da Gerardo Chiaromonte si è giunti a Fabio Fazio tutto il rispetto per Fabio Fazio però in effetti c'è una differenza tra il tipo se volete di interpretazione e di divulgazione insomma Fabio Fazio è bravo lo diciamo lo ripetiamo però sono cose diverse ci sono però parole che ecco questo mi interessa parole che andrebbero evitate non per altro ma per la loro vuota ritualità questo è bello che scende fino all'irrilevanza lui non era mai né vuoto né rituale né irrilevante niente di male per carità ma affascinante ed espressivo quanto un paracarro e si riferisce come paracarro a questa citazione proposta progressista democratica civica e ambientalista ecco queste sono parole in cui noi crediamo figuriamoci ambiente proposta civica ambientale eccetera però lui dice dobbiamo dirlo in un altro modo questa citazione è di Maurizio Martina che lui ha ripreso e dice non dobbiamo esprimerci in maniera così banale e allora torniamo appunto al concetto suo di libertà perché la frase che io ho letto potrebbe essere altrettanto come dire priva di un contesto se non ci fosse tutto il lavoro che lui ha fatto per esempio io che cos'era appunto che lavoro ha fatto Bourdine è entrato nel senso culturale delle cose per esempio libertà io ho conosciuto Bourdine anni fa perché io ho fatto un lavoro d'archivio in sorvegliati speciali e avevo tirato fuori dai comunicati della polizia politica tutte le analisi che loro facevano sul lavoro degli intellettuali e poi le ho riunite in un libro che si chiama sorvegliati speciali allora lui poi lui allora qual era la caratteristica di Bourdine la libertà l'abbiamo detto la curiosità cioè ecco lui era un intellettuale ma era un intellettuale politico che ci raccontava la politica quotidiana ma era anche un intellettuale contro quando io cito adesso questo esempio ma ne potrei fare infiniti lui che cosa gli interessava che io in questo libro parlo dei radicali ma non perché era solo radicale ma perché gli interessava che io tiro fuori i documenti che i radicali avevano contestato sul tema dell'omosessualità erano andati in piazza Mosca in anni e quindi avevano protestato per la libertà degli omosessuali in Unione Sovietica questo che cosa ha di specifico che in Unione Sovietica c'erano anni in cui dell'Unione Sovietica si diceva a mezza bocca ci sono i gulag però mai nessuno solo i radicali usavano farlo altro contesto ecco i radicali Pannella in questo caso che contesta e quindi e Bourdine poi che ne parla anche lui Pannella che contesta Terracini che negli anni 60 parla bene dell'invasione sovietica dell'Ungheria e non solo ma questo viene fatto all'interno di un contesto che si chiamava la festa dell'amicizia Italia-Urs che pensate con questo tipo di retorica che a Bourdine diciamo non piaceva molto arriva fino agli anni 80 l'amicizia Italia-Urs le feste dell'amicizia in vari ecco questi sono ecco lui perché dico che era un intellettuale contro era un intellettuale che non amava la banalità ma era anche un intellettuale che decodificava quello che era questa banalità che ha rimproverato a Martino eccetera che era anche del senso comune di certi decenni che noi abbiamo attraversato allora per dirvi che differenza c'era tra lui e Pannella la fantasia è stata una necessità quasi una condanna piuttosto che una scelta sembrava condannarci essere soli così abbiamo parlato come abbiamo potuto e dovuto con i piedi nelle marce con i sederi nei sit-in con gli happening con erbe e con digiuni obiezioni che sembravano individuali e azioni di pochi ma invece che erano erano collettive questa è una citazione non è di Bordin ma è di Pannella ebbene Bordin con questa citazione a mio parere non ha nulla a che vedere ve l'ho letta proprio per farvi vedere la differenza quella che io reputo naturalmente tra Bordin e Pannella ecco invece la citazione di Bordin che chi era l'intellettuale Bordin guardate lui ha rilasciato pochissime interviste e questo viene da una sua intervista Pannella esalta diciamo così la lirica la poesia dell'azione radicale e invece Pannella si e invece Bordin dice mi piace la sintassi quindi gli piace la prosa non gli piace la poesia mi piace la sintassi mi piace la prosa più che la poesia il liberal socialismo Calamandrei Salvemini ma anche Marx che è il mio primo amore e nel partito quando finalmente arrivò Leonardo Sciascia ecco mi piace il liberal socialismo questo è Bordin che secondo me era distante dalla poesia di Pannella gli piaceva più la prosa che cos'era quindi questo intellettuale Bordin che ama abbiamo detto la libertà la curiosità delle storie non sapute e poi anche il liberal socialismo cioè gli piace dei liberal socialisti l'attività degli intellettuali che possono essere Fabio Fazio chi vi pare o Gerardo Chiaromonte che sono però che possono essere mediatori del consenso oppure possono essere oppositori del consenso Bordin non aveva una linea diciamo a mio parere unica capiva le situazioni e si posizionava io lo ricavo dai dialoghi per esempio che lui ha avuto numerosissimi che a me piacevano molto perché erano molto storici con Pannella ecco Bordin si posizionava su una linea si posizionava a seconda delle situazioni diciamo così prendiamo per esempio Calamandrei che Calamandrei che Bordin rivendica come un suo come si dice appunto come una personalità assolutamente da stimare eccolo che invece non è invece discute con Pannella su questa frase che è stata detta da Ernesto Rossi a dirti la verità Ernesto Rossi che scrive a Salvemini a dirti la verità io ho terribilmente sui coglioni tutte le commemorazioni ed in particolar modo quelle combattentistiche Garibaldini reduci partigiani penso che il buon Ferruccio Parri andando a braccetto con l'ongo faccia completamente il gioco dei comunisti io non ho mai preso sul serio l'epopea dei partigiani quali risultano nelle orazioni di Calamandrei e di altri storici della resistenza e allora ecco qui Pannella e Bordin a discutere su Calamandrei e discutono anche a partire non sono geografici discutono anche a partire da questo giudizio di Ernesto Rossi molto critico nei confronti di Calamandrei eccoli per esempio che discutono sempre sul ruolo degli intellettuali devono essere mediatori del consenso devono essere oppositori dipende dalle situazioni eccoli che discutono per esempio di un giudizio di Franco Fortini che parla dell'arrivo appunto poi sono cose che dobbiamo contestualizzare per esempio Fortini parla dell'arrivo al potere chiamiamolo così il potere intese come scusa come case editrici eccetera eccetera di una casta di intellettuali di sinistra e allora ecco che da un certo punto di vista Salvemini e Ernesto Rossi sono i punti di riferimento di Bordin e anche di Pannella in alcuni momenti però eccoli pronti a discutere nel momento storico in cui arrivano personaggi come Italo Calvino Natalia Ginzburg Cesare Pavese Giulio Inaudi perché li considerano in quel momento storico di cui stiamo parlando non ad averci agli oggi questi intellettuali cioè dovremmo faremo come dire salti di gioia no però in quel momento storico li vedono come come dire non tanto come per carità non come gli utili idioti di cui Pannella e Bordin hanno spesso discusso assolutamente no però come una nuova casta al potere di intellettuali che invece di andare controcorrente in quel momento storico diciamo accettano alcune situazioni quindi quello che cosa voglio dire che lui era assolutamente una persona libera e dialogante e poi cambiava opinione a seconda poi di come diciamo i suoi interlocutori i suoi contesti si si posizionavano invece possiamo dire che univoco è sempre stato così la sua opinione questo lo ricavo dalle discussioni con Pannella è l'esempio di Salvemini quando Salvemini attacca i politici e allora Salvemini come vi posso dire parla dei politici come li chiama i bischeri in automobile i pescecani che sopraffanno la folla dei pesciolini l'incapacità la capacità dei politici di avere gli intellettuali come compagni di strada e quindi come asserviti e dopo queste queste constatazioni per esempio Salvemini dirà che lui votava per la democrazia cristiana tenendosi vi ricordate la famosa espressione di Salvemini tenendosi il naso stretto tra l'indice e il pollice quindi questa come dire questa critica dei politici poi da parte di Salvemini arriva poi al voto per la democrazia cristiana queste discussioni sul ruolo dell'intellettuale che poi può cambiare sono appunto sono tema di dibattito tra Pannella e Bordini autori invece incontestati sempre amati sono per esempio Orwell oppure Camus dove appunto c'è invece come possiamo dire un consenso pieno che prescinde poi da tutti anche i momenti storici o tutte le penombre che gli intellettuali si trovano ad avere attraversato e quindi a fare più o meno il gioco di alcune parti politiche e quindi che cosa voglio dire voglio dire che questo archivio è una miniera è una miniera da cui va come dire ricavato un quadro di un intellettuale dissidente no diciamo controcorrente che poi appunto cambia a seconda dei momenti storici che va utilizzato proprio per ricostruire parte della nostra storia una storia che non sempre è stata raccontata è stata raccontata nella sua quotidianità politica ma non è stata raccontata diciamo nello scenario più ampio che la storia merita e Bordini questo l'ha fatto grazie vi ringrazio tutti quanti e questa è la conclusione del nostro lavoro ma è l'avvio del lavoro degli altri degli storici di cui vorranno approfondire tutto quanto e siamo contenti di aver creato le basi per tutti gli altri grazie a tutti e arrivederci grazie